Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione, ho il piacere di ospitare il sindaco di Rocca Pietro e Andrea De Bernardina che saluto e che ringrazio per la disponibilità e con il quale affrontiamo un argomento che riguarda le elezioni che si sono tenute in maggio. Prima di queste elezioni De Bernardina aveva dato la sua indisponibilità a presentarsi alle elezioni, poi valutata la situazione che si era venuta a creare con Vaia che ha pestato particolarmente duro proprio sul territorio di Rocca Pietro non si è sentito lui e ai suoi collaboratori di dare un gravoso compito a gente che comunque avrebbe avuto delle difficoltà a creare e intessere tutti quei rapporti che erano già stati intessuti, è corretta come lettura? Sì, io credo, l'ho sempre detto, 5 anni per un sindaco sono pochi, 10 sono giusti, 15 sono troppi, nel senso che inizia a diventare parte dell'aredamento del comune e non va bene e di questo non sono consapevole, soprattutto col vice sindaco ma anche con i collaboratori diciamo più vicini dell'amministrazione ci siamo guardati in faccia e anche su pressione dei dirigenti regionali che stavano seguendo il post Vaia avevano preoccupazione che su Rocca Pietro potesse esserci una persona nuova che non aveva vissuto l'esperienza dell'uragato italiano, tessendo tutti appunto quei contatti necessari per portare avanti anche questi mesi successivi, ci siamo guardati in faccia e ci siamo ricandidati, insomma siamo ancora qua per i prossimi 5 anni che non saranno facili e non sarà nemmeno uno scherzo. Ma proprio riguardo a questo, ci vorrà molto tempo perché si parla continuamente di investimenti, la regione ha dato tanti soldi, lo Stato si è accollato altre spese, però il problema è ancora molto forte, ci vorranno anni per risolvere. Come è stato dopo il 66, opere che non è uno schiocco di dita che te le può risolvere, la cosa da evidenziare è che la regione Veneto e questo va dato atto a tutta una serie di strutture regionali che sono riuscite anche a muovere una macchina importante, è riuscita ad appaltare tutti i 360 milioni che sono arrivati nel 2019. Adesso bisogna essere altrettanto bravi nel 2020 e nel 2021, sperando che non succeda qualcosa di grave ancora nel nostro paese, parlo dell'Italia, perché spesso i soldi vengono dirottati nella nuova emergenza, quindi auguro a tutta l'Italia di vivere una serenità assoluta e che i soldi del 2020 possano essere appaltati di nuovo tutti quanti, quelli che aspettano il Veneto, quindi grande capacità, finora nonostante capisco anch'io che si può sempre fare bene e si può sempre fare meglio, la gente si aspetta sempre il meglio, diciamo che già fare bene è importante. Lei ha manifestato una preoccupazione che mette un po' di angoscia, però funziona proprio così nel nostro paese, alla nuova emergenza si prometterà dei soldi. Poi cambiano i governi, non abbiamo una certezza, una sicurezza di… Come sono andate queste elezioni? Lei ha vinto con che… Quasi con il 60%, adesso esattamente non ricordo, ma il 60-40 era con la lista avversaria, bene, nel senso che la gente mi ha di nuovo riconfermato, sono contento per l'amor di Dio. È una grossa preoccupazione ed è aumentato il lavoro. Un sindaco dopo un'emergenza del genere dovrebbe fare quasi il lavoro a tempo pieno, cosa che non si può fare, io ho un lavoro mio anche da seguire, ma soprattutto i comuni dopo l'emergenza dovrebbero essere in grado di assumere. Non è più una gestione ordinaria, non è più pensabile che un super lavoro possa essere svolto da degli uffici che prima gestivano l'ordinario. Noi ad esempio servirebbe un supporto in ufficio tecnico, potrebbe andarci bene un altro vigile, un amministrativo in più… Magari a tempo, per 3, 4, 5 anni. Esattamente, 3, 4, 5 anni, ti diamo la possibilità di assumere perché sei stato oggetto di un evento importante, invece questo non è possibile. Io sono venuto nel suo comune una settimana dopo i fatti e salendo ho visto qualcosa che era evidente, era cambiato, però l'impatto grosso si è avuto proprio più o meno da Caprile in su. Roccapietro e tutte le varie frazioni pesantemente colpite, non so nemmeno come siete riusciti ad arrivare a Roccapietro e salendo la strada. Però non è la sola preoccupazione delle varie zone, poi ci sono tutte le rive dei monti, ma ci sono due punti importanti. La parte di lago di vostra competenza con tutto l'asta del Cordevole, no? Sì, l'asta del Cordevole che si è alzata di due e anche tre metri, quindi il lago di Alleghe è riempito di circa 500 mila metri cubi di detriti. Questo fa sì che tutto sia alzato e in un caso, non dico un nuovo vaia, ma anche un vaia, il figlio di vaia, un vaia un po' più piccolo, creerebbe grossi problemi. Gli alve dei torrenti sono una nostra priorità. Ma lì non si sta facendo un intervento di sghiaiare e porre come barriere a lato? Esattamente, quello che è stato fatto sulla sinistra orografica del Cordevole da Caprile Alleghe dopo il 66, quindi ha alzato tutto l'argine per farci la strada sopra, dove c'è il distributore della Beifin, adesso siamo un paio di metri più alti rispetto al Cordevole. Invece dall'altra parte il Cordevole ha fatto quei danni che ha fatto alla pista ciclabile proprio perché eravamo quasi a livello del torrente, quindi verrà alzato anche dall'altra parte con i detriti del lago. Naturalmente non è una cosa facile da fare perché sono le belle arti paesaggistiche. Pensiamo che sono 25.000 camion da portare via dal lago, quindi per dare un'idea, perché la gente quando dice 500.000 metri cubi, 25.000 camion lo capiscono tutti. Stessa cosa nei Serrai, lago e Serrai sono i due punti turistici più importanti, il lago è interessata anche Roccapietor perché metà è anche nostro. È ovvio che turisticamente il paese di Alleghe lo sfrutta di più, ma interessa comunque anche a noi. E i Serrai per la zona alta della Valpettorina, quindi oltre a sistemare idrogeologicamente quell'area, anche lì se dovesse risuccedere un evento forte, i Serrai non hanno più la protezione di prima, quindi su Sottogura scaricherebbe molto di più di prima. Purtroppo non si è potuto far partire i lavori quest'anno, però c'è tanta solidarietà. No, sono partiti sia sul lago che sui Serrai, perché i primi due milioni, parlo dei Serrai, i primi due milioni arrivati dai fondi dell'emergenza, li stiamo sfruttando, i lavori sono già iniziati e si sta mettendo in sicurezza i versanti in alto, perché conosciamo bene i Serrai, quale canyon, quindi strappiombanti, bisogna prima di far entrare persone sotto a lavorare, bisogna metterli in sicurezza sopra, e è una cosa più delicata di quello che pensavamo, perché è fatto un disastro, anche sopra. Cioè che gli alberi che sono caduti hanno reso tutto più insicuro? Alberi, radici sollevate, sassi pericolanti, tutta una serie di cose da assolutamente sistemare prima di. Sì, soprattutto in inverno è usata come palestra per... Complicata. Complicata sul ghiaccio, quest'anno si potrà fare? Avevamo impostato un bel discorso, sia d'estate che d'inverno, ci arriveremo di nuovo. Beh, quest'inverno io credo che più di arrivare a, forse, se siamo capaci, alla Madonnina, che è il pratico, si entra nei Serrai da valle, da Sottogura, ci sono due gallerie militari e poi c'è la Grotta della Madonna, poi c'è un piccolo spiazzo poco più avanti, arriveremo fino a lì. Quindi per l'arrampicata credo poche cose. Siccome si era detto nel corso dei vari interventi su VAIA, sono arrivati i ministri, è arrivato di tutto e di più, è stato lanciato l'appello venite nei paesi che sono stati colpiti da questa alluvione e portate la vostra solidarietà concreta. Si è verificato poi alla prova dei fatti? Beh, io sono rimasto colpito in maniera positiva e anche quasi commovente dall'attenzione che il Veneto, il Veneto soprattutto, ci ha riservato. Provincia di Treviso e di Padova, che sono diciamo quelle più vicine turisticamente a noi in maniera eclatante, ma tutte le altre province, anche Rovigo stessa, che sono i più lontani, sono stati incredibili con le donazioni, con l'attenzione e molti di loro sono venuti su quest'estate. Non ce ne siamo accorti perché è una cosa silenziosa, è un turismo curioso ma che vuole anche portare qualcosa di concreto che sono i soldi nel dormire negli alberghi, nel mangiare al ristorante, nel acquistare nei negozi. Credo che sia stata una cosa importante, non ce ne siamo accorti, nessuno ne ha parlato ma c'è stata. No, ma non l'abbiamo ricordato in questo momento. Adesso però parte una nuova stagione scistica, voi dovete risolvere questa problematica di Malgar Ciappella che per anni è stato un punto di riferimento assoluto, poi un po' le difficoltà degli impianti, un po' la neve che c'è e che non c'è e varie altre cose. C'è o c'è troppa? Perché ricordiamo il 2014 ci ha rovesciato anche la seggiovia, una valanga che non cadeva da 100 anni, 98 per la precisione, quindi per 98 anni non è caduta, è caduta durante il mio secondo mandato perché sono davvero fortunato io. Sì, non si fa mancare niente, come si disse. Allora è una stagione però che parte già bene perché tanto c'è un imprenditore che sta mettendoci di tutto e di più che è Diego De Battista, che è giovane, un giovane imprenditore. Diego è giovane, imprenditore avrà 30 anni, quindi futuro davanti, è bravo, è brillante, io mi auguro che il passaggio di proprietà, diciamo dalla vecchia proprietà che veniva dalla valle di Fassa e aveva un interesse sì ma non proprio così forte, lui essendo di Araba ha un interesse invece maggiore sul padon perché il padon è il collegamento con Araba, quindi collegherebbe i suoi impianti di Araba con la marmolada potenziando tutto quello che si può potenziare sul padon e c'è assoluto bisogno. Padon lato Araba vanno potenziati gli impianti e padon lato Roca Pietro vanno migliorate le piste. Rimanendo queste però le piste, bisognebbe anche riattivare lo ski lift che parte da Malgarciapelle e porta fino a Capalabino. Esattamente, ci sono le problematiche legate agli ski lift, stiamo tentando di portare a compimento ma è davvero faticoso fra i vari meandi burocatici quella messa in sicurezza che ci mancava, lo sta facendo il comune con due annualità del fondo, no con un progetto strategico del fondo di confine un milione di euro, sono ulteriori obelix quindi quegli esploditori a gas per mettere in sicurezza anche il versante delle crepe rosse quindi di fronte alla marmolada. I lavori sono stati appaltati, se riusciamo a farli entro l'autunno d'inverno sarà in sicurezza però al contempo gli ski lift sono stati danneggiati da Vaia. Quindi tutto quello che ragionavamo prima, Vaia ci ha messo lo zampino ovunque. Speriamo di poter recuperare e magari andare meglio di prima. Prima che arrivasse Vaia voi avevate lanciato un progetto di marketing del Medio Alto a Gordino che non coinvolge solamente il comune di Roccapietro e che però è capofila. Ha subito dei rallentamenti, dei contraccolpi oppure ancora ha trovato maggiore forza e ragione di essere proposto? A un certo punto, a 4-5 mesi da Vaia, quindi i primi mesi del 2019, ci siamo seduti a un tavolo per rimodulare un po' quel marketing perché ovviamente qualcosa era cambiato però sta andando avanti direi bene con delle iniziative davvero brillanti. Ricordo una su tutte, quel periodo senza cellulare al rifugio Falier ha scatenato davvero un interesse mediatico mondiale perché sono state 19.000 le richieste per 10 posti che venivano dalla Corea, dal Brasile, dall'Australia, da ovunque. Ricordiamo che la proposta era quella di passare questa settimana al Falier che è un bellissimo rifugio in una bellissima valle però non ci si poteva portare a presso né computer né telefono a rinunciare, a disintossicarsi. collegati, ma se vogliamo la cosa è semplice, cioè non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, è stata una proposta banale che ha suscitato a me, persino è sembrata strana. Anche un po' contraddittoria, dicendola tutta un po' contraddittoria, fino all'altro giorno ci si batteva perché bisogna avere il collegamento internet su tutti i rifugi e poi facciamo una proposta che si rivela più fortunata che non. Ci siamo un po' agganciati a questo stress da cellulare, dicendo volete fare 5 giorni senza stress da cellulare? Non pensavamo che, sì all'inizio non hanno 500-600 le richieste, si pensava che quello fosse lo standard. Sono state 19.200. Questo dà anche da pensare, tutto sommato è un buon segnale, un po' in contraddizione perché comunque non si può rinunciare ad avere un sistema di comunicazione per le emergenze, però si può far l'uno e l'altro. In questo progetto di marketing c'è una cosa che mi interessa molto, anche perché avete dei paesi bellissimi, da Rocca all'Aste e qui si vorrebbe fare, proporre l'arbergo diffuso. Sta andando avanti? Il progetto sull'Aste, ricordo che ce ne sono due, San Tommaso e l'Aste. Sicuramente, quello che mi riguarda più da vicino, l'Aste sta andando avanti, si stanno ristrutturando alcuni appartamenti già esistenti che già affittavano. E' proprio l'Aste o a Ronc? Diciamo un po' sparsi, su tutto l'altipiano, perché l'Aste è sostanzialmente un altipiano, con vari villaggetti sparsi. E poi c'è la cosa più importante, che è l'apertura del ristorante, bar, reception, che dovrebbe gestire questi appartamenti sparsi su... Sono tutti lì a poche centinaia di metri, massimo un chilometro uno dall'altro. La reception farà da direzione, quindi quando il turista chiede, arriva lì, e la reception convoglia i clienti nei vari appartamenti, che stanno per essere strutturati. Il ristorantino sta per essere finito. Sembra ci sia un gestore interessato a portare avanti il lavoro. Piccolo ristorantino, secondo me è una boccata d'ossigeno per l'Aste incredibile. Ma c'è interesse poi per questo tipo di proposta, magari a discapito dell'accoglienza alberghiera classica? La gente chiede, la gente chiede sempre di più cose un po' particolari, di essere fuori dal contesto, e ce ne sono sempre di più. E generalmente è tutta gente professionalmente di alto livello, e anche con un euro in tasca, che è cosa da non tralasciare. Senta, lei deve sempre vedersela con gli albergatori, che hanno un sacco di problemi. Ma non è che qualche albergatore comincia a pensare che forse il modo tradizionale d'accoglienza va cambiato in un'offerta di questo tipo? Qualcuno ci ha già pensato. Lo chalet al lago a Masaré di Rocca. Il sole Nef a Sottogura. Ci sono altri, secondo me, alberghi che ci stanno pensando a queste strutture turistico-alberghiere, le chiamano, quindi residenze turistico-alberghiere, RTA, come sono definite. Quindi appartamenti gestiti però come un albergo, quindi con la reception, con una gestione, con un cambio più sovente, di tipo settimanale, ed è un, secondo me, per qualcuno potrebbe essere anche un'idea. Allora, è salita la ribalta della cronaca, la zona del Bosco Verde dove atterravano gli elicotteri, dove è stato fatto anche la... Salvini, Di Maio, Casellati... Ecco, quella è una zona che per voi è sempre stata particolarmente interessante. C'è un campo sportivo, all'attorno c'è anche una zona ricreativa. Sì, c'era quest'area di 13 mila metri quadrati di proprietà privata, l'abbiamo acquistata, i lavori sono partiti con due annualità del fondo di confine. Stiamo facendo un parco ricreativo interessante, bello, diventerà un punto d'attrazione soprattutto per i bambini, ma noi pensiamo anche ai genitori e alle famiglie, quindi con delle strutture innovative, belle e vicine a Sottogura, vicine anche a Caprile, quindi in zona abbastanza centrale, anche da Malga Ciappella, che può portare sicuramente un bel risultato. Abbiamo già unito il tempo a nostra disposizione, il mio invito è quello che abbiamo fatto a suo tempo, che hanno fatto un pochino tutti, di andare a visitare i nostri paesi, fare i turisti a casa nostra, che è una cosa molto importante, a fermarci, a mangiare, a bere qualcosa, a comperare, insomma a dare forza e vitalità ai nostri territori. È importante questo. Grazie ad Andrea De Bernardin, auguri per i prossimi cinque anni, che saranno da loro impegnativi. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a Telebelluno sempre, grazie. E buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.